Una mostra e un ciclo di conferenze nella Biblioteca della Regione Piemonte di Via Confienza a Torino sull'avventura coloniale italiana. Il Consiglio regionale ospita, fino al 18 marzo, la mostra Imprese coloniali a cavallo della Prima Guerra Mondiale, dall'Ottocento all'Africa Orientale Italiana. Proseguono inoltre le mostre itineranti del Consiglio regionale, concesse in prestito gratuito e allestite presso enti piemontesi. Presso i locali Unitré di Moretta, in provincia di Cuneo, fino al 9 marzo, è visitabile la mostra di vignette satiriche La Donna è immaginata, l'immagine della donna, promossa dalla consulta femminile del Consiglio regionale del Piemonte e curata dal disegnatore Dino Aloi. Fino al 13 marzo, presso la Biblioteca di Ceva, è inoltre allestita la mostra Agroalimentare in Piemonte, i brand che hanno fatto la storia, realizzata con la Camera di Commercio di Torino e il supporto dell'agenzia giornalistica ANS. Fino al 13 marzo, presso il Consiglio regionale del Consiglio regionale del Consiglio regionale del Consiglio regionale,